ciao in questo video vedremo come installare il sensore di bagnatura fogliare xnode leaf oltre a quello che è contenuto nella confezione avrai bisogno di un tronchesino fascette per fissare i cavi un palo in metallo di almeno due metri con diametro compreso fra i 20 e di 40 mm una trivella con un diametro di 10 15 centimetri ed almeno 50 centimetri di lunghezza un martello in gomma se pensi di poter installare il dispositivo su un palo già esistente per esempio in un filare non avrai bisogno di questi ultimi tre elementi il dispositivo viene fornito già assemblato per cui non sono necessari i montaggi di parti esterne per prima cosa faremo la registrazione del dispositivo sulla piattaforma xfarm leggi il codice del dispositivo ed apri l'applicazione xfarm una volta entrato nell'account della tua azienda agricola vai nella sezione sensori clicca sul bottone più usa la mappa per selezionare il punto in cui installerai il tuo sensore inserisci un nome con le identifichi scrivi il codice letto sotto la scatola bianca e seleziona il tipo di sensore acquistato una volta fatto clicca su crea sensore per aggiungerlo al tuo account se l'xnode non è dotato di scheda sim cioè non è una versione cellular avrà bisogno di una stazione meteo xsense o di un gateway xsense nelle vicinanze per inviare i dati avvicinati quindi ad uno di questi dispositivi per continuare con una prova di connessione la copertura del segnale dipenderà dalla versione della stazione meteo e dalla presenza di ostacoli variando da 1 a 5 chilometri circa a questo punto prova ad accendere l'xnode premendo il pulsante esterno della scatola bianca controllando che il led al centro del pulsante lampeggi velocemente se questo accade conferma che la batteria è carica e il dispositivo è pronto ad essere installato in campo dirigiti in campo e trova il punto migliore per installare il dispositivo avendo cura che non ci siano ostacoli nelle vicinanze che potrebbero interferire con il segnale fissa il dispositivo xnode su un palo di supporto con le due fascette lunghe avendo cura di orientare il pannello solare verso sud in modo che l'efficienza energetica sia massima fissa la foglia elettronica con le due fascette piccole e controlla che si è esposta a 45 gradi con gli elettrodi cioè la parte righettata verso l'alto e la parte con le scritte verso il basso fissa il resto del cavo con le fascette avendo cura di tenerle sempre ad almeno un metro di altezza dal suolo per evitare danni da parte di animali selvatici grazie per aver visto questo tutorial iscriviti al canale youtube di xfarm per continuare a rimanere aggiornato con nuovi video e visita www.xfarm.g per maggiori informazioni buon lavoro da xfarm